popolo di Imbrat amore nel video di oggi vi faccio vedere la costruzione di un muro in blocchi di cemento ma come sempre prima di passare il video vi dovete iscrivervi al canale e attivare la campanella perché? perché ve lo direi! di solito quando si fa un muro si fa per sostenere qualcosa o per separare qualcosa o per proteggere qualcosa ma in questo caso no in questo caso questo muro serve alla nostra sola permettici le luci, reggi solo che le luci dai bambu fai finta di tirarci lupalate sono per il pubblico dai fai finta di tirarci lupalate sono per il pubblico lupalate sono in base però non fai 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 sbagliare Sì, dai che ho da fare. è fondamente gettato, tutto predisposto Grazie a tutti Oh vai, tutto staccato, tutto pronto, ora si inviamola Da! Ora no, non ti ci sta E un po' di più nel mezzo E dove poggia la costina di me A me lo puo' io Guardate il piano con quell'altro verso E un po' di più nel mezzo E ora che si fa, babbo? Grazie Bravo Mettete un po' più lungo Abbiamo messo la fine A me lo so e mi piace E poi la ciotola più chiacchio è il piobbro e basta che la fai allora ti va a mandare il diritto che poi ti va a mandare il cartone Grazie a tutti. 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 Ma te non dici altro? Questo video ti dici solo va, si va a casa, si fa a festa. Ma ci pezza più troppo, io ti preoccupo. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Vai che siamo nel l'ultimo. No. 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 ovvio siamo arrivati alla fine spero che il video vi sia piaciuto se avete qualche domanda qualche dubbio fatemelo nei commenti per il resto condividetelo mettete mi piace insomma fate cosa vi pare per il resto ci si vede al prossimo video bye